Ok, questo è domenica. ...di euro nei confronti di Giovanni, Salvatore e Cuono Pellini, recentemente condannati in via definitiva per il reato di disastro ambientale e in carcere tra Rieti e Santa Maria Capovetele. Ulteriori elementi informativi acquisiti hanno condotto oggi la polizia giudiziaria all'individuazione di una società fiduciaria con sede nel centro di Milano, verso la quale era stato acceso dai fratelli Pellini un mandato fiduciario, la cui esistenza è stata dissimulata mediante fittizia e dettazione alle rispettive mori. Pertanto anche questa cassaforte di famiglia con un consistente ammontare, circa 2,2 milioni di euro di denaro contante e titoli di Stato, è stata ora sottoposta a sequestro patrimoniale. I camminieri della frazione di Caserta, unitamente a quelli del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, hanno tratto in salvo una 53enne di Caserta che a seguito di un litigio per motivi sentimentali con il proprio marito si era allontanata a bordo della sua autovettura, e aveva inviato al conio c'è un messaggio video in cui minacciava di suicidarsi ingerendo il contenuto di due confezioni di un forte medicinale. I militari dell'arma, le stati dell'uomo, sono riusciti a localizzare l'autovettura in via Nicolini a Caserta che hanno quindi soccorso alla donna trovata ancora in vita nonostante avesse già ingerito il farmaco. La stessa, a seguito dell'immediato intervento dei sanitari nel 118, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Caserta dove è stata ricoverata in progno di riservata, ma non è in pericolo di vita. Il segretario generale della conferenza episcopale italiana, Nunzio Galatino, sembrerebbe il candidato più accreditato a prendere il posto di Crescenzio Sepi, arcivescovo di Napoli nel 2006, pronto ad andare in pensione, per raggiunti i limiti di età il prossimo 2 giugno al compimento dei 75 anni, salvo d'eroghe che al momento appaiono improbabili entro quella data il cardinale dovrà presentare le sue dimissioni e se per non ne fare neanche un gran mistero nel corso dell'ultima conferenza episcopale Campana infatti ha lasciato intendere i confrateri di essere pronto a lasciare solo un segno di amato di giallo, sono per andare in pensione. Il mio progetto è fuori, io spesso la dischia, lei è incinta al settimo mese, lui con un piccolo precedente perfurso, due giovani pusher sono stati sorpresi nella soreata di ieri dai carabinieri della stazione di Forio direttamente sul molo dove erano appena sbarcati dall'escafo partito da Napoli il 21enne residente a Forio è stato tratto in arresto e in flagranza di reato mentre la ventenne è stata denunciata a piede libero perché è incinta e proprio sulla gravidanza di lei che i due avevano scommesso per eludere ogni controllo e passare inosservati con la droga acquistata a Napoli 100 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, questa è la sostanza sequestrata dai carabinieri in Borghese che avevano già in precedenza seguito da vicino le mosse dei due giovani pusher e si intensificano le verifiche igienico-sanitarie dei NAS negli esercizi commerciali della provincia di Napoli lo scopo è prevenire anche sotto rispetto amministrativo violazioni che possano regare danno alla salute pubblica l'ultimo significativo sopralluogo è avvenuto in un noto supermercato del Corso Campano di Giuliano dove si è proceduto a sequestro amministrativo di un deposito usato per lo stoccaggio degli alimenti e della sua cella a frigo la struttura era utilizzata senza autorizzazione del risultato prima dei requisiti previsti dalla legge sequestrati anche 50 kg di alimenti, la carne, vegetali e latticini tutti privi di documentazione utile e la loro tracciabilità è tragedia di seda sulla linea ferroviaria Battipaglia-Salerno un uomo di 64 anni originario di Baronissi è stato travolto e ucciso da un treno in corsa il macchinista che conduceva il convoy non ha fatto in tempo a fermare il treno sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 gli agenti della Polfer di Battipaglia che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e avviare le indagini per capire se si tratta di incidente o di eventuale suicidio e con questo per il momento è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento al prossimo TG1 io stacco